come ogni anno a fine estate piazzale don baroni è pronta ad ospitare il luna park che festeggia la storica data della 103esima edizione una tradizione quindi che si rinnova da oltre 100 anni e anche in questo 2024 le giostre di lucca sono pronte a far divertire grandi e piccini luna parche del lucchese che è riconosciuto diciamo in tutta italia è luna parche itinerante riparlo di itinerante più grande d'italia noi ci mettiamo tutto l'impegno abbiamo fatto un programma nutrito che va per tutto il settembre lucchese che partirà con l'inaugurazione che si terrà sabato 24 agosto alle 20 ci sarà la banda la fila armonica della versilia ci saranno le mascotte ci sarà il taglio del nastro da parte delle autorità cittadine e in più una cosa molto gradita abbiamo visto i giovani che abbiamo ripetuto in questi anni qui un'ora gratuita tutte le attrazioni verranno messe a disposizione delle famiglie dei giovani tutto quanto un'ora gratuita a tutti i lucchesi che vogliono partecipare alle 23 si terrà lo spettacolo pirotecnico e quest'anno è previsto un omaggio a puccini saranno infatti le musiche delle sue opere a fare da sottofondo musicale gli appuntamenti del luna parche proseguono con la notte rosa del 20 settembre la festa dei bambini del 23 e il 23 24 25 settembre si svolgerà la festa dello studente infine il 29 settembre in occasione dell'ultima fiera ci saranno prezzi speciali su tutte le attrazioni grazie a tutti